Ciao ragazzoli e ben ritrovati qui sul mio canale sono Onigod Oggi sarà un video di presentazione e non video di gameplay Questo qui è il mio canale YouTube Oltre a questo vi volevo presentare sempre altri miei social Tipo se voi andate qua su vedete Instant Gaming Che non è un social ma è dove potete acquistare i giochi a un buon prezzo Su qualsiasi piattaforma Quindi PC, Steam, Battle.net, Epic, Ubisoft, Rockstar Questo non so che cavolo è Microsoft, GOG, Origin In più troverete i giochi Playstation, Xbox e della Nintendo Poi c'è il mio canale TikTok Sono Onigod quindi seguitemi anche qui che porterò cavolate Video divertenti Quindi dateci un'occhiata Oltre a TikTok abbiamo Telegram Dove vi scrivete e io vi informo quando usciranno dei video sia sul canale Viola Che poi vi faccio vedere Vi informerò quando pubblicherò un video su YouTube E quando farò le live sul canale Viola Che poi vi faccio vedere Quindi seguitemi qua su Telegram Poi per ultimo c'è il canale Viola Ho nove follower Mi sto organizzando per poter fare le live almeno alla sera Visto che ho ripreso a lavorare E visto che ho poco tempo Non posso giocare e poi allo stesso tempo fare registrare, editare e pubblicarlo su YouTube Quindi faccio la live, prendo un pezzone del video, lo edito e lo pubblico su YouTube Cerco di facilitare un po' le cose Gli orari della live ve li aggiungerò e ve lo dirò sul mio canale Telegram Poi essendo un canale comunque creato così Cercherò di renderlo un po' meglio Ok? Ma con il tempo farò tutto piano piano Ok detto questo ripassiamo al canale YouTube Bene ragazzi questi sono i miei social Sperando che mi seguite anche lì Ok? Che dire il video finisce qui Spero che vi iscrivete al mio canale YouTube E anche agli altri social Attimate la campanellina per non perdervi i prossimi video E di mettere un bel like Detto questo noi ci vediamo al prossimo video Ciao ciao